Salve, agente strano. Se stai ascoltando allora ancora una volta, hai trovato quello che stai cercando, o almeno credi. La tua perseveranza è davvero ammirabile, ma mi chiedo se hai imparato qualcosa dal tuo viaggio di scoperta. Come recita il vecchio adagio, se mi freghi una volta devi vergognarti tu, se mi freghi due volte devo vergognarmi io. Se arriva la situazione in cui ti trovi solo credendoci, allora io ti chiedo, agente speciale Stram, hai imparato a gridirmi? Se vuoi salvarti hai una sola possibilità, entrare nella teca di vetro che hai davanti. Certo proverai un po' di dolore, ma è l'unica chance di sopravvivenza. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto, abbiamo vinto. No! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti ho preso, figlio di puttana! Puttalo! Puttalo! Ho detto buttalo! Che ti ha ridotto così? Dimmi, chi è stato? Abbiamo vinto, abbiamo vinto insieme, insieme, abbiamo vinto. Mandate subito un'ambulanza. Uno, due, nove, tre, send us drive. Ciao! Ciao! Oddio, Peter! Dimmi come si apre! Come si apre! Al contrario, se scegli di non entrarci, di te non si saprà più niente. Il tuo corpo non verrà mai trovato e scomparirai nel nulla. Ora ti chiedo, agente speciale Strahan, hai imparato finalmente a fidarti di me. Seguirai i miei consigli, se non lo farai... Caffanculo! Questa stanza sarà per sempre la tua tomba e il mio lascito diventerà il tuo. Se sei bravo ad anticipare il comportamento umano... Sono convinta di essere seguita. E da chi sarebbe seguita? Devo parlare con Jill Tuck per l'ultima volta. Sostiene che sia qualcuno dall'interno? Non resterà alcuna chance. L'obiettivo era ucciderci tutti. Vai! L'obiettivo era farti diventare un eroe. Fa la tua scelta. Cohen. Sono Ericsson. Deve inviare una segnalazione urgente. Il nome del ricercato è Peter Strahan. Sì, esatto. L'agente speciale Peter Strahan. Come si ferma, figlia di puttana? Tanto ho capito chi sei. Lo so. Sì, esatto. Sì, esatto.